Si parlava alla vigilia di quanto fosse remota la possibilità che anche in caso di play out il Pisa giocasse l'andata in casa invece si sta verificando proprio questo e adesso bisognerà trovare una soluzione per la gara amichevole della nazionale contro l'Irlanda del Nord in programma anche quella sabato prossimo qui a Pisa Zambrella, attenzione quasi zona tiro per lui, scarica destra per Zambelli, pronto il cross, palla che arriva, secondo palla e il gol del Brescia il gol del Brescia con Zambrella, incredibile, 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 il gol di Zambrella, rovescia il mondo di Pisa e Brescia rovescia il mondo di Pisa e Brescia in questo momento il Pisa in retrocesso in Lega Pro e il Brescia invece raggiungerebbe quota 67 in classifica alle spalle, anzi alla pari con l'Empoli e il Brescia sarebbe terzo in classifica è cambiato tutto all'Arena Garibaldi con il gol di Zambrella, incredibile Grazie a tutti! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti